Raga La Nickelodeon Non sa fare le applicazioni Allora Vi spiego un po' la situazione Allora Un tizio Nel Play Store Sul Play Store Che ne so vabbè In Spongebob Game Frenziche della Nickelodeon Aveva scritto Che quell'applicazione è pure Appogamento Aveva scritto che avviava il gioco Faceva la scritta Nickelodeon Poi schermo bianco Ora Io ho scaricato questo gioco Per vedere se è vero Tipo Spongebob Tocca e costruisci Non mi ricordo come si chiamava Guardate che cosa succede Se ora voi starete Vedendo tutto in piccolo Perché C'è qua C'è io anche C'è io mi secco pure A editare sto video Basta C'è schermo bianco Niente C'è quindi è vero Che Che quando io l'ho L'ho Scaricata Cioè ieri Mi Diceva di Rispondere a delle domande E la domanda Era In che anno Siamo Adesso 2020 Ok E il gioco funzionava Bene Sì Però Già avevo Un sacco di Di bug Vabbè Quindi poi stamattina Che non è proprio Mattina ma È pomeriggio Possiamo dire Vabbè Perché L'ho aperta Ora l'applicazione E Basta Schermo bianco C'è C'è Guardate C'è C'è Il video non è È bloccato Vedete Che c'è Il coso Il pallino Poi io in una parola Poi io in una parola